Buongiorno a tutti, sono Massimo di Scarpa e vi presento le novità per il 2023 della linea Scialpinismo di Scarpa. Abbiamo il nuovo maestrale, praticamente l'abbiamo ridisegnato completamente, abbiamo un nuovo scappo, un nuovo gambetto e nuova lingua. Tiene la sua immagine, la sua identità dell'Orange, che è riconosciuta ormai sulle piste e sul mercato dello scialpinismo da oltre dieci anni. Per lo scappo e per il gambetto utilizziamo sempre il Pebax Airnew, materiale che arriva da una risorsa rinnovabile, l'olio di ricino. È il primo scarpone che realizziamo PVC free, nessun materiale che utilizziamo contiene PVC, scarpetta termoformabile Intuition e suola Vibram. Lo scarpone pesa 1380 grammi, ha una larghezza forma di 102, quindi abbiamo puntato molto sia sul peso ma anche sul comfort dello scarpone, mantenendo inalterate le prestazioni sulla neve.